La croce, non possiamo dimenticarlo, quando guardiamo una croce è morte, non possiamo mettere fra parentesi la morte di Gesù. Gesù muore veramente in croce, realmente in croce, non è una rappresentazione, è veramente la sua morte. Ma anche dentro questa morte gli evangelisti ci raccontano qualcosa di speciale, un segreto nella morte di Gesù. Ci dicono che Gesù restituisce il suo spirito, non ci può non venire alla mente quel soffio della creazione che Dio ha messo nell'uomo perché potesse vivere. Quel soffio di vita a questo punto quando Gesù muore lo restituisce. Giovanni usa un po' queste parole, l'evangelista Giovanni, lo rende, lo dona. Nella sua morte Gesù dona lo spirito, dona quel soffio, quello spirito adesso è donato a chi ha fede in lui. Forse ci può già ricordare qualcosa del dono della Pentecoste e quindi è bello pensare in un luogo così brutto che Gesù morendo compie un'opera di vita, cioè ci dona lo spirito, come se quella croce, quel luogo in quel momento si compisse una nuova creazione.